Tutto ok, da Raffae? Ma che vuoi? Da merda! Stavo tornando a casa, a un certo punto i posti mi hanno preso. Ma ce ne andiamo da questo a presa in Italia, ok? E' bravo, è bravo, è bravo, la ragazza è bravo. E' bravo, no, no, non ti chiede, no. Sono due elementi che è meglio che sono stanzi davanti. Questi bastardi che con la dimisa ci prendono in G. Lui diventerà il primo cittadino? Sì. Vediamo bene. Sì, ma arriva. Oh, cazzo. Ok, ha puntato Coppola, forse le hai demetica che io sono in quest'ora. Buongiorno, questa è la stanza che ti ha riservato per la fredda. Sì, prego. Oh, buonasera. Piacere, Jessica. Però Gerardo, io non sono d'accordo con questa politica e con questa candidatura. Diffici. Benvenuto in Italia, Don Giorgio. Sono un cucinale. Ma che fai, sei pazzo? Ma voi la farà venga. Buonasera. Buonasera. Mi presento la mia peggiora. Tu è un'altra figlia. Buonasera, signore. Noi dobbiamo fare come le bestie. Ci dobbiamo rispettare.